Siamo finiti nel Bronx Domenica, dobbiamo fare la spesa Si è giusto tutto, porco Vieni con il piede, controllo Quanto la puoi dare a giudaldino? Non bisogna dire una puota negra Giudaldino, dal pieno Go! Partiamo col tour della casa Possiamo vedere Zampo che sceglie robe nel frigorifero Qua c'è Zampo che si riposa Sulla sinistra possiamo vedere Zampo che cucina La piastra, induzione, microonde Zampo sul divano che riposa Qua si può notare il carrello Qui possiamo vedere Zampo che dorme nel suo letto 40 metri, parla a piede A puntare Van der Sar Esce Van der Sar sotto il diluvio di Sarsino Parla da una parte, portiere da Alberto Girardino Alberto Girardino Un'altra domanda Speri me la Caga, amico Top, raga Sta proprio piovendo Non ci fermo a niente nessuno qua Non ci fermo a niente nessuno qua Speri me la 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 Like I do 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 Vabbè lo siamo per fare ci perdiamo il 2b e ce la scappiamo nella metro Vedno prossimo Vabbè